Le marcature con questo gol, 1-0 Asamoah Keita Jackson Martinez Occhio al volo, attenzione, Rente! Attenzione, Rente! Carvajal Prova al volo, attenzione, Rente! La squadra è in campo Recupera bene il pallone Che gol! Rente da Rente! È una Rente, occasione Destro! Che gol! Splendida Rente! Stanno dando spettacolo in questa partita Confermandosi fra le squadre sicuramente più calde Verso l'obiettivo Spezia! Grazie a tutti.